Brucia Monte Gualardo al confine tra la Toscana e l'Umbria. È stato un pomeriggio di paura, un enorme rogo infatti divampato in un'area di campagna tra Tuoro e Cortona, poco distante da Terontola. In un primo momento le fiamme hanno minacciato anche alcune abitazioni. L'incendio ha interessato stando alle prime stime circa 50 ettari di bosco. Sul posto i vigili del fuoco di Arezzo, di Cortona e di Perugia. Presenti anche i volontari antincendio, i carabinieri forestali ed i carabinieri di Terontola. Impegnati in volo anche due aerei, quello della Regione Toscana e il Drago dei Vigili del Fuoco. Ancora dunque un altro episodio di una lunga serie di roghi che in questi giorni stanno tormentando il territorio aretino.